Esce forte Radaelli, Radaelli nella corsia, otto all'esterno e Marco Radaelli del timbiciaio che si perte immediatamente. Dai Vazzina! In seguito della trepa del Caravaggio Ford, e c'è il due tre del Caravaggio Ford, e ancora con 6-3-4, Bonanno Davide, Bonanno Davide, si infia in seconda posizione, poi ancora l'audaccia aspettiva dosate, ma intanto Radaelli domina la finale della categoria ieri.